E' una fiera importante, se avete avuto modo di girare già per gli stand è anche molto bella, piena di colori, piena di cose positive, è una fiera che per noi è particolarmente importante perché qualifica molto il prodotto fiera di Bologna del mondo, è conosciuta dagli operatori di tutto il mondo, è riconosciuta un'eccellenza e ci fa piacere vedere che ogni anno cresce, anche in questo caso sono 1.400 gli espositori erotti, sono 80 paesi e soprattutto che ci ha consentito poi di allargare il format anche negli Stati Uniti, poi andremo in giro per il mondo, insomma saremo a Mosca, saremo in tanti altri paesi dove metteremo un seme della fiera di Bologna.